Buongiorno Runners, se non vogliamo vannificare il lavoro svolto con la Run Academy o più semplicemente perdere le capacità acquisite con la corsa, ecco la mia proposta di allenamento da svolgere a casa per mantenere inalterate le principali capacità. In queste tre settimane vi proporrò altre tanti allenamenti e ci concentreremo sulla mobilità, sulla stabilità e sulla tecnica. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!